Un caro saluto, un caro saluto da Diego Fusaro, è tornato a farsi sentire sul tema della guerra a Bergoglio, che taluni si ostinano impropriamente a considerare il Papa, ma che Papa non è. Ce ne siamo occupati estesamente nel nostro libro La fine del cristianesimo, ove, discutendo dell'evaporazione del cristianesimo in atto al tempo della civiltà tecnomorfa e turbo-capitalistica, abbiamo anche discusso di come Bergoglio non sia il Papa, poiché Papa rimase fino alla fine Ratzinger e dunque l'elezione di Bergoglio fu invalida. Ma a prescindere dalla magnaquestio del papato, Bergoglio è intervenuto sulla questione del conflitto che vede coinvolti tragicamente gli abitanti della striscia di Gaza e in questo caso ha detto, come su questo tema gli capita talvolta di dire, cose pienamente condivisibili, cose che dovrebbe dire ogni persona di buonsenso a nostro giudizio, ma si sa il buonsenso sta nascosto perché ha paura del senso comune, parafrasando i promessi sposi di manzoniana memoria. Ha detto Bergoglio che bisogna in ogni caso cessare il fuoco e noi siamo pienamente d'accordo con lui, una frase un po' superficiale forse perché sul fatto che si debba arrivare al cessate il fuoco bisognerebbe essere tutti d'accordo, anche se non è così ovvio, dato che i più nel lagone politico non lo sostengono, però bisogna anche capire come arrivare al cessate il fuoco. A nostro giudizio bisognerebbe anzitutto riconoscere ai palestinesi il diritto di avere una loro terra, un loro stato, senza vivere come ora vivono, confinati a Gaza in una sorta di prigione a cielo aperto. Consideriamo il fatto che gli abitanti di Gaza vivono senza diritti e trattati nei modi peggiori. Questo va detto, bisogna riconoscerlo e tutto sommato Bergoglio su questo tema è decisamente meno peggiore rispetto a molti altri della politica sia nazionale sia internazionale.